Il gas brucia e scotta le dita di chi si prova a maneggiarlo. La prova plastica si è avuta nel novembre 2013 a Melendugno, quando la presentazione del contro-rapporto messo a punto dal comune si è trasformata in una sorta di sondaggio di gradimento delle popolazioni locali alle posizioni dei diversi partiti politici. L'applausometro ha quindi premiato i duri e puri, l'opposizione parlamentare del governo Letta, come Barbara Lezzi e Diego De Lorenzis, rispettivamente senatrice e deputato del Movimento 5 Stelle. Io mi sono ritrovata con dei colleghi pugliesi che scodinzolavano, ve lo dico a Russo, scodinzolavano e come? E dicevano, ma è vero Russo che sta dando 5 milioni di euro ai comuni, perché così potremmo fare un po' di cultura con 5 milioni di euro. Ci facciamo dare 5 milioni di euro dall'ingegnere russo che ci devassa il territorio e che dice che solleva una pineta, poi la rimette a posto, mi tolgo il cappotto, ve lo rimetto, è la stessa cosa. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo veramente con l'anello al naso per avere il lavoro per due anni? Noi distruggiamo pesca, agricoltura, distruggiamo il turismo, i libri che noi stiamo andando ad incentivare, a dare vantaggio e poi che cosa mi dice signora Capone? Che cosa? Che facciamo il gasdotto? Ah no, lo facciamo 30 chilometri più avanti. Ma l'applausometro ha premiato anche un movimento territoriale come quello di Paolo Pagliaro, la cui presenza spiccava soprattutto per essere l'unico portabandiera, per dir così, nel centro-destra, nell'assemblea di Melendugno. Non possono pensare di sfregiare e profanare una delle coste più belle che noi abbiamo. Noi abbiamo questo, cosa vogliamo? Consegnare ai nostri figli. Che cosa gli dobbiamo consegnare? Bravo! Il momento è per concludere, perché è il Paolo Pagliaro. Io non entro in questioni tecniche perché secondo me stiamo perdendo del tempo, hanno già deciso di farla questa opera. Bravo! Non è così, si accettano scommesse, ma comunque noi dobbiamo fare la nostra parte. Questa classe politica è stata troppo tempo a riposo, scatti sull'attenti e vadano a incatenarsi se necessario. Strano ma, tranne il movimento Regione Salento, neanche i più presenzialisti esponenti di centro-destra, quelli che non mancano mai all'inaugurazione della parrocchia o al taglio del nastro della Sagra della Castagna, misero piede, nell'assemblea di Melendugno. Come mai? Forse a pesare, oltre al sostegno al governo Letta, non particolarmente caro ai lealisti di Raffaele Fitto in Puglia, era la presenza, accanto al country manager di TAP, di Ernesto Somm, ovvero di un professore universitario, Fittiano Doc, tanto che il ministro di Maglie, quando era a capo del di Castero agli affari regionali, lo volle a capo del più strategico dei dipartimenti, quello del Piano per il Sud, ovvero degli investimenti da distribuire sul territorio meridionale. Anche per questo, probabilmente, il PDL ha passato momenti di discussione non semplice sul TAP, anche in vista del Consiglio provinciale che doveva esprimere la sua posizione proprio sul gasdotto. In attesa di quell'appuntamento, gli uomini del centrodestra non misero piede all'assemblea di Melendugno, che ben presto si trasformò in un massacro vero e proprio, soprattutto per i parlamentari del PD, a partire dai fischi e dalle contestazioni a Salvatore Capone. Io penso che bisogna essere non solo leali con noi stessi e con gli altri, ma ho raccontato in modo particolare ciò che sta avvenendo e la posizione che noi stiamo cercando un attimino di assumere e di immaturare, tenendo conto che noi avremmo... Scusate, scusate, abbiamo già chiesto... Per favore, scusate Natto, scusate Natto, scusate Natto, scusate Natto. Scusate, 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 scusate... Scusate, scusate, io non vorrei... No, 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 io chiedo... Allora, io non sono animato... Ma è stanco e freddo a tutti e chiedo anche a Salvatore Capone di concludere questo intervento perché il suo tempo è terminato. Scusate, Marco, per favore... A chiudo, a chiudo, a chiudo... Anche perché, diciamo, i temi della pianificazione, mi riferisco soprattutto all'architetto Mininati, io sono stato e diciamo, so che cosa significa il piano territoriale di coordinamento e il salento definito parco, no? Perché l'ho fatto in parte, anch'io, perché ero assessore provinciale alla pianificazione territoriale e quindi so benissimo che cosa significa un'infrastruttura, seppur strategica, all'interno di questo territorio. Tant'è che questo, l'ho già detto, l'ho già detto che metteremo, ci metteremo in quanti delle condizioni... Onorevole Capone, il suo tempo stiamo dicendo, stiamo dicendo le stesse cose. Noi cercheremo di fare il punto che quest'opera non si realizzi qui a me del Dugio. Grazie, grazie. Grazie a Salvatore Capone. Perché le contestazioni a Salvatore Capone e in parte minore a Teresa Bellanova? Soprattutto per l'enfasi riservata all'accordo internazionale che sancisce l'importanza di TAP nella strategia energetica dell'Italia. Un accordo che, al momento dell'Assemblea di Melendugno, era già stato ratificato dal Senato e doveva passare al baglio della Camera. Anche per trarre di imbarazzo i parlamentari del territorio, il sovrintendente all'interno del governo Letta dell'operazione TAP, ovvero il sottosegretario all'energia Claudio De Vincenti, ha specificato che, virgolettiamo, la configurazione che l'opera avrà sul territorio italiano è competenza della procedura di via, che non è in alcun modo condizionata dalla ratifica dell'accordo, perché sono proprio due procedure che toccano punti diversi, chiuse le virgolette. Come dire che un conto della ratifica dell'accordo è un conto dell'approdo e l'articolazione che il tubo avrà sul territorio italiano. E la verità? In realtà l'accordo votato alla Camera contiene un'indicazione vaga ma non troppo anche sull'approdo. Secondo il documento, TAP è un gasdotto destinato a collegare il confine greco-turco attraverso la Repubblica Greca e poi la Repubblica di Albania, attraversando l'Adriatico fino ad un'area nei pressi di Lecce. Un'indicazione abbastanza stringente oppure abbastanza vaga. Sta di fatto che è su quella vaghezza che falleva il vero leader dell'opposizione alla TAP, ovvero il sindaco di Melendugno, Marco Potì. Fu lui a calmare gli animi incendiati dal gas e a spingere il dialogo i suoi concittadini e coloro che rappresentano, piaccia o no, il territorio a Roma. Allora, questa è un'assemblea pubblica organizzata da una commissione consigliare che è un organismo eletto democraticamente. Noi dobbiamo rispettare le regole della democrazia, abbiamo illustrato il progetto, abbiamo detto quale sono le nostre contradduzioni, i parlamentari e i politici che oggi sono presenti qua, che io ringrazio. Ma spegnere le contestazioni non era facile. Di sicuro quei fischi sono pesati al momento del voto, che ha visto perfino l'ascissione del cosiddetto deputato bifronte, cioè il tandem Teresa Bellanova-Salvatore Capone. I fischi presi a Melendugno probabilmente bruciano. Ed ecco che l'onorevole Capone è fra i cosiddetti deputati ribelli, cioè fra coloro che hanno votato in difformità rispetto al proprio gruppo parlamentare riguardo all'accordo della TAP. Salvatore Capone si è quindi astenuto, insieme a Liliana Ventricelli e a Franco Cassano, mentre il Partito Democratico ha votato a favore. E nelle file del PD ha votato a favore anche la Bellanova, che però ha anche presentato un ordine del giorno, firmato pure dal deputato azzurro Rocco Palese e approvato dalla Camera, per modificare l'approdo. La popolazione di Melendugno ha detto no all'approdo di San Foca, dice la deputata, e no all'approdo ho ribadito anch'io. È su questo stretto crinale di fischi volati a Melendugno e la linea in partita da Roma che si muove il PD Pugliese e soprattutto Salentino, che ha anche il timore di venire scavalcato a sinistra dal primo dei suoi alleati, Nichi Vendola e il suo partito Sinistra Ecologia e Libertà, che dopo la vicenda a Ilva è alla evidente ricerca di occasioni per dimostrare intransigenza ambientale. E la TAP può essere una di queste occasioni. Per una domanda sul gasdotto è d'obbligo. Se non sbarcherà a San Foca come la popolazione effettivamente non vuole, lo sta dimostrando anche con l'Ost. Dove va? Io sono molto orgoglioso di aver messo in campo una procedura inedita, qual è quella dell'ascolto delle popolazioni. I cittadini hanno competenza sul loro territorio e sanno raccontare bene quali sono i talenti di quel territorio. Io penso che sia stato veramente un errore grave immaginare che in uno dei punti più belli della costa salentina si potesse determinare l'attracco di un gasdotto. Tuttavia, abbiamo detto al Governo, è vostro compito, vostra responsabilità, però avete l'obbligo di ascoltare le popolazioni e mi pare che le popolazioni sono brave a farsi ascoltare e credo che vinceranno questa battaglia. Così, su questo stretto crinale tra Roma e San Foca, gli esponenti del PD Salentino sono alla ricerca di una quadratura del cerchio e forse l'hanno trovata in un'ipotesi diversa che sposta il punto d'approdo facendo salvo il progetto strategico da San Foca a Brindisi. Questa fu, del resto, la posizione espressa da due esponenti di punta del PD Salentino proprio nell'assemblea di Melendugno. Il segretario regionale del PD, Sergio Blasi, sostenendo la necessità di cambiare approdo da San Foca a Brindisi e grazie a questo cambio di rotta approdare alla gassificazione di Cerano. E poi Loredana Capone, assessore della Giunta Vendola con Delegale Energia e quindi con competenze specifiche per interloquire con TAP e per ragionare del progetto. La Capone, che lì a Melendugno, si giocò due carte. La prima, oggettiva e scritta sugli atti, ovvero il parere negativo già rilasciato dal Comitato Via della Regione Puglia sull'approdo a San Foca. E la seconda, opinabile e futura, quella della valutazione delle alternative, ovvero della possibilità, anche in questo caso, di un cambio di approdo. Quali sono le carenze emerse dalla valutazione del Comitato Via precedente? Bisogna partire da quelle carenze che non sono solo progettuali relativamente al dato tecnico di quel progetto, ma sono anche di procedura. La prima di queste carenze è, sono state valutate le soluzioni alternative? E come sono state valutate? Siamo certi che non ci siano alternative possibili, anche in altre realtà, ma non per incentivare una guerra di campanile. Cioè io non è che voglio dire Lecce contro Brindisi, Brindisi contro un'altra realtà contro Lenni in uso. Il problema è che le soluzioni alternative vanno valutate come si deve, ma valutate in termini economici e finanziari, perché non vorremmo che dietro l'idea della pose idonea che viene citata con riferimento ad altre soluzioni, ci sia un problema economico-finanziario, per cui lavorare lì costa di più e quindi lo vogliono evitare. E' qui che si arriva alla polemica che brucia e incendia gli ultimi tempi. Nel frattempo la provincia di Lecce ha espresso il suo parere, il centrodestra a Palazzo dei Celestini ha sciolto la riserva, un parere negativo e non favorevole al gasdotto, derivante da un emendamento sottoscritto, procedura piuttosto insolita, dal presidente della provincia, Antonio Gavellone. E' votata dal centrodestra con patto nel Consiglio, che però vede le dimissioni di Francesco Bruni, presidente della Commissione Ambiente Provinciale, e divenuto senatore per Forza Italia. Bruni che si dimette, specifichiamolo, per non cumulare il doppio incarico di senatore e consigliere provinciale, e sottolinea, attenzione, di condividere la delibera votata dalla maggioranza Gavellone. Bruni, il cui nome ritornerà però, dirì a pochissimo, perché nella tavola rotonda, organizzata da Transatriati Pipeline, per spiegare ai mezzi di informazione le caratteristiche del progetto, incalzato dalle domande dei giornalisti, il country manager di TAP, Gian Paolo Russo, non chiude alla possibilità di cambiare tracciato. La partita del cambio di approdo è ancora aperta oppure no? Si può ancora venire aperta rispetto all'obiettivo della realizzazione di una tempistica dell'opera oppure no? La partita del cambio di approdo è una partita che è aperta da un momento in cui la regione dovesse ritenere di avere insieme al governo una soluzione di fattibilità migliore nel complesso delle dimensioni. Russo però, allo stesso tempo, richiede coerenza e linearità di comportamenti alle istituzioni in ballo. E facendo in pochi secondi la storia di cinque anni di TAP, dice chiaro e tondo ciò che molti sapevano ma nessuno diceva. La prima ozione di TAP non era Melendugno, ma Brindisi. E da Brindisi TAP se ne andò in virtù di una telefonata di Francesco Bruni, allora presidente della Commissione Ambiente della provincia di Lecce, e Vittorio Potì, l'ex sindaco di Melendugno, zio dell'attuale sindaco Marco Potì. TAP ha fatto, non dimentichiamoci, 2005-2008, gli studi all'indinuso. 2008, fine 2010, gli studi a Brindisi. Nell'autunno del 2010, che TAP non riusciva, con la precedente amministrazione, Viniti a Brindisi e con la Regione, che è la stessa amministrazione, a trovare una produa che non avesse tematiche di natura ambientale, di siti rilevanti, di Poseidonia, di area di erosione geomofologica, Cerano e Casale. Con questi soggetti che ho citato, è uscito fuori Melendugno, come l'area ambientalmente migliore per questo investimento. Il 15 dicembre del 2010, la provincia di Lecce e il sindaco di Melendugno ci confermarono che dovevamo andare su Melendugno perché era il sito migliore. Nel febbraio 2011, il sindaco di Melendugno ha organizzato un incontro con i sindaci di Calimera, di Verno, di Castrie, eccetera, eccetera, per rappresentare il progetto e verificare che anche loro fossero d'accordo e da quel momento in poi noi siamo stati su Melendugno, ma come scelta all'epoca favorita anche sotto l'aspetto socio-ambientale, emotivo, psicologico, eccetera, eccetera, ma soprattutto il fatto che quella era l'unica area che non aveva problemi di natura posedonia e di attraversamenti di siti rilevanti. Per politica aziendale abbiamo un obbligo di tracciatura degli incontri con i presenti, gli obiettivi, lo scopo e qual è il follow-up, c'è cosa bisogna fare dopo l'incontro. No, no, telefonata, telefonata di Bruni che ha parlato con Vutero Vuti, dice contattatelo, abbiamo fatto una riunione... No, 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 scusami, no, no, la provincia, sì. La regione, tornando per un attimo a Vuti, quindi, se prima tu hai detto Vuti ha dato la regione e adesso lo prendiamo noi, quindi la regione... La regione era più che consapevole, noi abbiamo fatto anche noi dopo dell'incontro con la regione in cui abbiamo cominciato a mostrare le prefattibilità su Menendugno e la regione all'euro tecnico e all'euro politico era perfettamente consapevole. No, perché adesso sembra che... Con quale politico avevo parlato? Eh... Ai massimi novelli era mezzo. Ai massimi novelli? E poi c'era... Beh, diciamo che sicuramente il vicepresidente della regione... L'attuale vicepresidente della regione era consapevole... A parte, Gian Paolo Russo specificherà di aver parlato anche con l'ex vicepresidente della regione Puglia, oggi assessore allo sviluppo economico, Loredana Capone, che avrebbe pure consigliato il tipo di compensazioni ambientali da promettere al comune di Menendugno, ad esempio un progetto di recupero della Grotta della Poesia. Faccio prima a dirvi con chi non ho parlato, ironizzerà Russo, nel tragetto verso l'area che ospiterà il terminale di ricezione. Ecco qui, apri di cielo, è qui che si scatena la tempesta delle smentite. Un comunicato ufficiale di Angela Barbanente e Loredana Capone che definiscono sconcertanti le affermazioni dell'amministratore delegato Gian Paolo Russo. È falso, dicono Barbanente e Capone, che sapessimo tre anni fa dell'approdo leccese e ancora più falso che abbiamo valutato positivamente la scelta. Di cattivo gusto e poi riferire di una telefonata dello scomparso Vittorio Potì, aggiungono, mentre la Capone particolare sottolinea che la sua citazione della Grotta della Poesia nei colloqui che ebbe con Russo solo nel 2012 serviva proprio a dimostrare, afferma, la delicatezza e la particolarità dell'ambiente toccato dal progetto. È inquietante, peraltro, concludono Barbanente e la Capone, che la decisione circa l'approdo di un'opera così rilevante a impatto ambientale possa basarsi sulla telefonata di un sindaco. Eccolo qui, il punto cruciale, la proda San Foca a cui si sarebbe giunti per motivi politici e non ambientali. Cruciale questo passaggio da Brindisi a Melendugno a causa delle opposizioni, dei politici locali e delle popolazioni brindisine. In verità, chi aveva già puntato a suo tempo su questo punto era stato il consigliere regionale di sé, l'Antonio Galati, analizzando le quattro alternative in territorio brindisino scartate da TAP e rilevando le contraddizioni tecniche di tutte e quattro e soprattutto di quella a nord chiamata Brindisi Casale nelle vicinanze dell'aeroporto. Scartata perché, dice Galati, un giorno potrebbe diventare un'area a destinazione mista industriale turistica mentre TAP sceglie una località come San Foca che già oggi è di interesse ambientale e sviluppo turistico. E infatti, sapendo di essere stato colto in fallo, il country manager TAP Gian Paolo Russo invierà un chiarimento ai mezzi di informazione. TAP precisa, si legge nel comunicato ufficiale, che aveva già iniziato a valutare tecnicamente l'ipotesi di San Foca nell'autunno 2010 e che la disponibilità di Melendugno a ospitare il gasdotto fece seguito agli studi di fattibilità preliminari già effettuati dall'azienda. Peccato che nella tavola rotonda con i giornalisti il country manager avesse detto esattamente il contrario. Quindi non siete stati voi che bagliando le varie cose si siete arrivate a San Foca? È stato un po' di... Noi non eravamo arrivati ancora a San Foca, eravamo ancora... Era su Brindisi. Cercavamo testardamente di rimanere su Brindisi perché era il territorio che avevamo bagliato in tutti i modi e non riuscivamo a trovare... La verità è che la disponibilità politica del territorio nel 2010 perlomeno anno in cui probabilmente c'era si sposava con una circostanza ovvero l'assenza dalle mappe naturalistiche dalle carte oggi accolte nel PPTR della regione Puglia di Posidonia la pianta marina protetta tra l'altro utilissima perché contrasta l'erosione delle coste. La Posidonia è assente sulle mappe in corrispondenza ai limiti amministrativi di Merendugno ma è presente nella realtà cioè sul fondale di San Foca come gli stessi studi di TAP hanno riconosciuto e come una serie di studi indipendenti condotti dal geologo Tommaso Elia per conto di un comitato locale non hanno mancato di puntualizzare e sottolineare. Quindi è stata mappata la presenza di Posidonia nell'area quindi non facendo riferimento alle mappe che sono già presenti sui vari siti ma è stata verificata la presenza effettiva della Posidonia nelle zone di lavoro quindi verificare effettivamente dove era presente la Posidonia dove non era presente. Tattuere, mappe della Regione Danilo che già dimostravano l'assenza ma è diciamo ci si attende che il proponente oltre a prendere mappe ufficiali della Regione faccia delle indagini per verificare effettivamente che la vegetazione non si cambia la prevale sulla carta no? Esatto quindi c'è il tra Posidonia sul fondo e non lo riporto sulla mappa ma è la posizione che c'è dopo la Posidonia e in effetti proprio per questo abbiamo fatto abbiamo fatto questo tipo di indagini proprio per verificare lo stato delle varietà di Posidonia e quindi abbiamo fatto proprio delle indagini con i subacqui nella zona prevista per l'uscita del microtunnel. Attenti a questo punto perché sembra una questione tecnica ma invece è prettamente politica di politica territoriale TAP ha sempre portato questa motivazione per la scelta di San Foca l'assenza di Posidonia dalle mappe naturali e il motivo per cui l'approdo di Melendugno è preferibile a quelli di Brindisi ma se i rilievi della stessa TAP che vedete in questa slide rivelano la presenza di Posidonia qui indicata dal contorno rosa tanto che il gasdotto si deve spostare con il proprio interramento qui indicato in giallo ancora più a largo di Melendugno per evitarla ecco che cade il motivo principale per continuare ad insistere ancora sulla proda San Foca io ho detto che dal 2005 al 2008 avete bagliato le ipotesi di virus dal 2008 al 2010 avete bagliato le ipotesi di primi sinotte insomma e gli altri tre alternativi diciamo sì cioè lì per l'opposizione politica del territorio vi si è risposto senza no ho detto no perché non troviamo approdi l'unico approdo tecnicamente senza Posidonia e senza problemi di attraversamento di siti rilevanti che c'erano dentro il chimico è quello di Casale a nord dell'aeroporto quella è un'area destinata a insediamento turistico recettivo non si è mai fatto però dice quello è un vincolo non mi toccare l'unica area che prosipeticamente un giorno se trovo qualcuno che ci investe ma infatti il tema non è più diciamo l'impatto ambientale ma è quanto un'opera di questo genere leda o meno lo sviluppo turistico se qualcuno ti chiama a un tavolo e ti dice brindisi anche se costa di più perché c'è la pose Donia c'è il petrolchimico è una soluzione che i territori vogliono e questo è il tema attenzione perché tu mediamente dici no Belendunio non va bene ma nessuno dice cosa va bene tranne qualche fuga in solitario di Blasi o di altri se la regione se la regione oggi di cesta puoi andare puoi parcare a Casale perché diciamo se lo Stato lo sono gli strumenti urbanistici come il noto titolare dell'urbanistica e la regione quindi caderebbe quello Stato cioè TAP al Stato non è più i cittadini di Casale che dicono i brindisini ma io penso che TAP perché quella rotta l'ha studiata penso che lo valuterebbe capirà che i cittadini di Brindisi non sono italiani questi cittadini no no ma infatti io pongo i cittadini io lo pongo al contrario i cittadini di Brindisi ecco il punto è proprio questo non ci sono territori e cittadini di serie A e territori e cittadini di serie B dato per scontato che il gasdotto TAP sabbia da fare e in gran parte dell'opinione pubblica così scontato non è anzi scegliere dove e come farlo non è indifferente basta prendere un progetto pur pieno zeppo di lacune come quello del gasdotto concorrente l'Igi Poseidon per constatare come con tutti i mille difetti che quel progetto ha l'approdo è stato scelto in un'area già cementificata come il porto di Otranto e dopo aver vagliato non quattro alternative ma tredici tredici alternative diverse i cui pro e contro sono stati vagliati in un progetto lo ripetiamo per la terza volta che zoppica dal punto di vista ambientale e nonostante quest'andamento claudicante si è posto il problema di esaminare il triplo delle alternative possibili di approdo perché un sospetto alla fine di tutti i conti pesa il sospetto che l'incantevole marina di San Foca e lo straordinario entroterra di Melendugno siano stati letteralmente fatti a pezzi e venduti sul banco della strategia internazionale della geopolitica energetica il sospetto che tutto sia già deciso e che nulla sia più possibile un po' come successe per altre infrastrutture industriali incomparabilmente più impattanti come la centrale di Cerano allora si svolsero due referendum uno della provincia di Brindisi e uno della provincia di Lecce gli esiti furono veri e propri plebisciti per il no eppure furono letteralmente buttati nel cesso dalla politica di allora ecco il sospetto che la politica tutta da destra a sinistra voglia ripetere quello scherzetto è fondato questa classe dirigente ha il compito di spazzare via questo sospetto o ne porterà il peso per i prossimi decenni grazie a tutti